La canapa è una grande risorsa per l'ambiente, l'agricoltura e l'architettura. Ecco perché proprio questo è il tema del cantiere scuola che dal 19 al 21 settembre è promosso a Gubbio dall'azienda Agraia. Costruire con la canapa aiuta l'ambiente ed aiuta la performance delle abitazioni. Tutto questo verrà illustrato nel corso di seminari teorici e cantieri pratici. Il corso infatti è aperto anche ai lavoratori del settore che potranno così imparare la messa in posa dei materiali costruiti con la canapa. Scadenza delle iscrizioni lunedì. La canapa inizia si può utilizzare sia a livello di mero isolamento, può essere utilizzato come intonaco antimuffa, o può essere addirittura una parete di tamponamento per cui farci tutta l'abitazione, i tetti, i sottofondi e quant'altro. Le caratteristiche che ci hanno in materie naturali, quindi in particolar modo la canapa che andiamo a trattare, di diverso rispetto ai primacitati sintetici, è il fatto che la durabilità nel tempo. Oltre a quello abbiamo il funzionamento sia invernale che estivo, non è da sottovalutare il funzionamento estivo, perché noi utilizziamo i nostri isolanti da sempre nelle abitazioni e ricorriamo per l'estate a macchine di condizionamento. Oltre a questo abbiamo l'impatto sull'ambiente, che non è da sottovalutare, oltre al fatto di non generare la muffa, i sintetici generano muffa, questo addirittura invece c'è, nel senso che se c'è la leva non è una cosa da trascurare.